Ciao ragazzi, sono Ricciotto e sono qui per parlarvi di Wolfstein New Order, il nuovo FPS targato Bethesda che riporta in auge un vecchissimo nome della storia dei videogiochi. Prima di lasciarvi la recensione però, vi invito a seguirci su Twitter, su Facebook, su Youtube, su Google+, su Twitch, su Eurogamer.it, dove volete. Buona visione! Il nuovo Wolfstein ci mette ancora una volta nei panni del leggendario eroe di guerra americano Blaskovic, che in un universo alternativo in cui i nazisti hanno vinto la guerra e conquistato il mondo, deve fare tutto ciò che ha in suo potere per ribaltare una situazione ormai disperata, dando nuova linfa vitale a una resistenza sull'orlo del collasso. Dopo un inizio di avventura piuttosto piatto, la narrazione di The New Order inizia a pompare emozioni e adrenalina nel cuore dei giocatori, complici i dialoghi convincenti e la potenza di alcuni dei temi trattati. Nel nuovo Wolfstein, la pancia dei giocatori viene spesso messa alla prova dalla brutalità delle situazioni in cui Blaskovic si trova coinvolto. Esplorando le ambientazioni di questo FPS, si ottengono continuamente informazioni utili ad approfondire il lore del gioco, ora da alcuni ritagli di giornale, ora dai discorsi di alcuni passanti. A convincerci in modo particolare è stato il modo in cui il gioco si evolve mettendo di fronte a una grande varietà di situazioni, sia emotivamente che ludicamente. Una delle scelte cruciali che ci si trova a dover affrontare nel corso della storia, poi, arriva a influenzare il gameplay e lo svolgimento della trama, cambiando le abilità a disposizione di Blaskovic e i suoi compagni d'avventura. Sfortunatamente, però, dalle scendere di Starbreeze non è tornata solo l'ottima componente narrativa, ma anche il comparto tecnico zoppicante. Anche le meccaniche di gioco di The New Order sembrano uscite da un FPS di 15 anni fa, con tanto di kit medici con cui recuperare l'energia persa e di munizioni e protezioni da raccogliere in giro per le ambientazioni. Al di là del difficile rapporto con la narrazione, comunque, il gameplay di Wolfstein è gradevole e riesce a intrattenere senza troppi problemi, nonostante un IA migliorabile e qualche piccolo glitch qua e là. A garantire una marcia in più alla giocabilità è la presenza dei talenti, sbloccabili con piandazioni specifiche che, in sostanza, tendono ad assecondare e incoraggiare l'approccio preferito di ogni giocatore. A seconda che si prediligano le uccisioni silenziose o l'approccio ad armi spianate, il gioco sblocca gradualmente abilità utili a rendere sempre più efficace lo stile scelto. Wolfstein The New Order non è un gioco perfetto, ma mai come in questo caso ci sentiamo di consigliare a chiunque di andare oltre il mero aspetto tecnico per vivere una storia potente all'interno di un genere troppo spesso orfano di una componente narrativa all'altezza.